Presidente, Vanessa e Greta liberate in Siria. La comunità di Sant'Egidio ha fatto molto per fare di Aleppo una città che rappresenti la pace in questo paese. Qual è il suo commento su questo? Una grande felicità che queste due nostre concittadine siano finalmente libere perché sono persone che hanno mostrato tutta una generosità del nostro popolo che è quello di stare vicino a chi soffre, soprattutto nei momenti di difficoltà. Noi dobbiamo continuare ad aiutare la Siria e particolarmente Aleppo dove vivono tanti e tanti cristiani che stanno soffrendo insieme ai musulmani di questa situazione. Qui questa sera però parliamo di Nigeria. Siamo tutti nigeriani e hashtag è quello. Qual è il significato di questa preghiera? Essere vicini a un popolo che soffre enormemente per la violenza, violenza estremista che addirittura adesso usa i bambini piccoli come kamikaze. Sono orrori del nostro mondo a cui dobbiamo opporci innanzitutto con lo scandalo ma anche noi come comunità cristiana con la preghiera, con la vicinanza e con il sostegno a chi soffre in quelle regioni.